E ora libriamoci la rubrica dedicata all'editoria curata da Claudio Ciccarone che fa tappa nel Sannio. Oggi il Leggilibri va su per il Sannio, dove ancora si respira aria ad altri tempi, dove la cultura contadina sopravvive per ricordare quanto era più semplice e gentile il viver la vita. Dal catalogo di Ideas consigliamo Racconti Condadini di Carmine Nardune. Racconti Condadini è la storia e le storie di gente senza storia. Sono quei poveri saperi di cui parlava Levi Strauss che hanno tanto e tante cose da dire e da insegnare a noi tutti. Dal catalogo di Realtà Sanita consiglio questo libro, Il Rione Ferrovia Benevento, Il cuore di una città viva. Si tratta di un libro di denuncia che presenta due facce, una Benevento degli anni 30 piena di attività economiche, una Benevento invece decadente quale è quella di oggi.